I carabinieri della compagnia di Carini hanno arrestato quattro palermitani di età compresa tra 22 e 33 anni accusati di rapina a mano armata ai danni di due visitatori italiani residenti nella Repubblica Ceca. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GEP di Palermo su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini che hanno portato alla identificazione dei responsabili del brutale episodio avvenuto il 4 giugno del 2022 a Isola delle Femmine. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri, la coppia di turisti era a bordo di un taxi quando venne affiancata da due moto di grossa cilindrata in via degli Oleandri. I due aggressori li avevano seguiti da cinisi e minacciando il tassista con un casco sono riusciti a sottrarre l'orologio dal polso di uno dei coniugi. Grazie al lavoro svolto dagli inquirenti è stato possibile risalire all'identità dei quattro rapinatori e adottare le misure cautelari contro di loro. Due dei quattro arrestati sono stati condotti in carcere mentre gli altri due sono stati posti ai domiciliari.